Ciao a tutti ragazzi, sono Zacco84, un saluto come sempre. Andiamo avanti con la nostra avventura qua al Grande Tempio. Oggi useremo Crystal contro Aquarium, come segue nella storia se non erro. Vi lascerò la scena filmata. What? Quella e non c'è la corsa. Qu'è l'onore? Qu'è il caso della cultura che è? Qu'è l'onore? Qu'è l'onore? Fai66, c'è una nuova per favore, e questa è la mia chauve. Allora... Non mi interessa... Non mi sembravo di fare alla fine Quindi non mi sembrava di farlo Ma non mi sembrava che sia così Non poterlo. Ma che sia una persona che sarebbe più verificato È un disminuoso Non mi sembrava che sia un'amplice Quindi, vogliamo fare lo stesso Ma... cosa è? Ma... 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 ma Ecco che inizia il nostro combattimento, proviamoci a affrontare Camus, dalla quale... E allora? Ancora? Ancora una volta? Mi piace quando ti fanno in domanda a reticizione? Allora? Bello quanto lo fanno, eh? Mi piace quando ti fanno i limiti Mi ricordo ancora la mia prima puntata che quando arriva... Sembra che sia un quasi cattivo... io non ho mai fatto non è vero ah, non è vero la barra mi piace che male ah, che scato non la vedo bene, ecco la pronetta però eccolo qua proviamo a ritenerci se c'è un boom off però fammi schiacciare la pulsante per l'assarcia ok dai crystal facciamo un po' spaccaglielà ok 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 guarda ma che male che fa c'è il personale oh 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 basta buona c'è la sua bella colonna ah oh 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 c'è una specie di combo, eccola qua, per capirsi, anello lo blocca e gli ti raccanonato il fan, adesso mi ricordo questa cosa qua, non mi ricordavo di vari personaggi, e questa l'abbiamo vinta, però non credo che basti veramente ucciderlo una sola brava, si è fatto angustia, guardami, adesso ha risuscitato, è già qualcosa e infatti immaginavo che non bastasse una volta solo uccidere e allora, questo mi ricordo, che vi faccio aiuto e lo so, amici, la principale del arco del terro, l'aerio dell'arco! Uou! Uou! Ah! I... Ima no cosmo So... そんな... Seiya, Tu hai visto? Ah... Il cosmo della cosmo all'inizio è diventata E poi Nel momento Ha si matuto Ma... C'è vero? La vita di Hyogha è fuori! A presto, Hyogha. A presto. 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 e non credo due minuti questo combattimento ci vediamo per il prossimo video che sarà fegato se vuoi essere Ioria io lo chiamo Ioria ma si chiama Ioria ma è uguale Ragazzi a presto